cari amici e care amiche vorrei darvi un appuntamento importantissimo per questa sera martedì alle 21 e 15 su rete 4 seconda puntata del terzo indizio perché sono vestito di tutto punto perché pur essendo la voce fuori campo mi piace andare a lavorare in ordine quindi appuntamento alle 21 e 15 rete 4 il terzo indizio ciao a tutti vi aspetto